ragazzi mi sto ancora riprendendo da quello che ho appena visto nelle mie email una cosa incredibile inaspettata inattesa davvero una cosa che mi ha lasciato senza parole stavo quasi per svenire ragazzi ho ricevuto un'email di banggood con l'avviso che il mio prodotto è stato spedito ma quale prodotto è stato spedito si ragazzi lui è stato spedito l'apsan zino mini incredibile ragazzi non ci sto più nella pelle perché era un prodotto che pensavo non arrivasse mai invece è stato spedito a sorpresa perché non me l'aspettavo proprio che mi arrivasse in questo periodo l'email di banggood anche se comunque iniziavano a vedersi vari esemplari in alcuni canali cinesi quindi vuol dire che qualche prodotto esisteva però non mi sarei mai aspettato che fosse già arrivato il mio turno di riceverlo ed è stata veramente una sorpresa incredibile e se pensiamo che questo ordine io l'ho fatto il 9 di maggio sono passati esattamente tre mesi da quando l'ho ordinato finalmente hapsan ha consegnato i suoi droni gli hapsan zino mini pro anche a banggood e non solo perché comunque non è che chi l'ha preso da qualche altra parte adesso abbia il drone quindi ragazzi davvero incredibile in più con il coupon sconto che ho utilizzato che poi l'avevo lasciato anche nel mio canale telegram offerte in cui vi invito a guardare ed iscrivervi l'ho pagato 390 euro quindi anche ad un prezzo davvero spettacolare secondo me per un mini drone sicuramente fuori di testa per le caratteristiche dichiarate da hapsan e pagarlo 390 euro secondo me tanta tanta roba vedremo se veramente le caratteristiche saranno rispettate non vedo l'ora di averlo la data prevista di consegna è il 27 di agosto cioè esattamente tra 15 giorni in teoria dovrebbe essere tra le mie mani questo nuovo mini drone di casa hapsan e sono davvero curioso perché ragazzi era un drone che super atteso per le caratteristiche poi super chiacchierato perché praticamente non si era mai visto un esemplare solo dei rendering poi finalmente arrivato un esemplare in una presentazione finita malissimo in maniera super drastica in cui hapsan è uscita davvero in maniera vergognosa però adesso ragazzi sembra davvero che queste drone stia arrivando adesso non resta che averlo tra le mani e capire se veramente le caratteristiche sono quelle dichiarate o perlomeno si avvicinino a quelle dichiarate che sarebbe già comunque tanta tanta roba e ripeto con il coupon sconto l'ho pagato 390 euro spero che anche altri l'abbiano acquistato un quel coupon sconto che ho lasciato nel mio canale telegram offerte se è così ragazzi fatemelo sapere nei commenti o se magari tanti di voi l'avevano preso anche col coupon sconto poi hanno disdetto l'ordine perché i ritardi di banggood anche se non era ovviamente colpa di banggood ma di hapsan che non consegnava i droni però tanti magari l'hanno disdetto l'ordine giustamente o anche chi comunque l'ha acquistato direttamente dal sito hapsan ha disdetto l'ordine perché comunque anche lì i droni non sono mai arrivati a chi li ha presi anche dal sito hapsan quindi sono davvero emozionato penso che si veda perché è proprio non me l'aspettavo è stata una cosa di quelle proprio in attesa ho aperto il mio mac e avevo un'email ragazzi quando ho visto banggood ho detto vabbè non è l'unico prodotto che mi deve arrivare da banggood quindi non ho dato subito peso importanza pensavo fosse appunto un altro prodotto e invece ho letto hapsan zino mini pro 64 giga pazzesco quindi ragazzi questo era solo un video per avvisarvi che probabilmente se tutto andrà bene se tutto sarà rispettato se tutto andrà come deve andare tra circa 15 giorni vedremo qua sul canale lui l'hapsan zino mini pro quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato queste mie ultime informazioni riguardanti il mio hapsan zino mini pro vi è piaciuto lasciatemi un altro pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler stampe 3d voli in fpv tante cose arrivano lì iscrivetevi sempre se vi va al mio canale telegram offerte per sostene questo canale dove anche avevo pubblicato il coupon o sconto dell'hapsan zino mini pro e però ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial e soprattutto la recensione e l'unboxing dell'hapsan zino mini pro ciao